Capita sempre più spesso entrando in questi labirintici percorsi di una lunga e infinita notte, la notte civile, la notte culturale, la notte politica in cui talvolta abbiamo la percezione di essere precipitati, in questa condizione capita sempre più spesso di tornare a riflettere su Pierpaolo Pasolini. La lezione di Pasolini è stata mille volte edulcorata, manipolata, tradotta in un oggetto di facile consumo. La straordinaria complessità di una lunga milizia intellettuale, di una lunga ricerca di registri formali attraverso i quali esprimere la propria vocazione artistica, l'inclinazione alla creazione, ma anche la possibilità di riflettere sul proprio statuto intellettuale, sul proprio mestiere. Ecco, questa incredibile versatilità di un Pasolini che è stato saggista, poeta, cineasta, romanziere, drammaturgo, una incredibile fucina di percorsi, di interrogazione, di autointerrogazione, di autorappresentazione. Ecco, è stata troppo spesso fotografata nelle forme di una sorta di maledettismo, Pierpaolo Pasolini come un continuatore fuori tempo massimo della letteratura del decadentismo. Ecco, noi abbiamo la necessità invece di restituire a questo personaggio straordinario per intero il senso della sua opera, del suo lavoro, della sua fatica, capire quanto il tema del rapporto tra il presente e il passato sia assolutamente fondativo di una poetica che coglie nel presente e nel futuro, e cioè negli elementi dell'impegno, del bisogno dell'intellettuale di testimoniare la fede nel progresso. Quanto tutto questo Pasolini lo racconta come una sorta di dovere esteriore e quanto invece egli venga attratto visceralmente, epidermicamente, da una condizione elitaria, la poesia come spazio prezioso, come luogo di celebrazione di una bellezza ineffabile e come luogo in cui vive la tradizione, una età che precede la storia della modernizzazione e un'età in cui la poesia è figlia del dialetto e tra la poesia e il dialetto ci sono i corpi, un vitalismo erotico che è persino talvolta allegramente cepliniano, che è mitologico nel senso di rivisitare da Boccaccio a Chaucer i classici di un tempo storico reinventato ad uso proprio di di questa sorta di mito antropologico premoderno. Ecco, Pasquale Voza accende un faro sull'ultimo Pasolini, quello che questa contraddizione porta alle estreme conseguenze. Il Pasolini che aveva cominciato raccontando la trasformazione di Roma, delle sue periferie, che aveva nel pianto della scavatrice, nel famoso poema delle ceneri di Gramsci, raccontato il rischio che progresso e sviluppo non fossero un'equazione e che il progresso comportasse la perdita, la perdita di storie, di tradizioni, di culture, di identità, di poesia e di erotismo. Tutto quello che è nelle bellissime parole, nei versi stupendi appunto del piange ciò che muta anche per farsi migliore, il vento del futuro non cessa un solo istante di ferirci. Tutto questo si condensa in una maniera molto più cupa, si fa sempre di più mito, le metafore diventano progressivamente più livide e le testimonianze dell'ultimo Pasolini sono una sorta di repertorio della dimensione funerea della vita soppiantata dalla morte, della vita artificiale che è una specie di morte della libertà, della poesia e dell'erotismo. I corpi sono la scena di questa tragedia perché i corpi nel loro antierotismo sono davvero l'incarnazione di quella omologazione consumista che fa del potere un codice totalitario moderno, un codice che non ha bisogno dei lager, che non ha bisogno dei manganelli, che non ha bisogno dell'olio di ricino, che non ha bisogno degli strumenti classici della repressione perché diventa biopolitica, perché entra direttamente nella coscienza e attraverso la coscienza, attraverso l'immaginario, attraverso l'organizzazione delle forme culturali progressivamente diventa antropologia, si fa corpo, è una carne mortificata, una carne di morte, l'eros impossibile nei tempi dell'omologazione. Su questo Pasquale Voza lavora da par suo, scandaglia in profondità queste opere così sconosciute, così celebrate, ma così poco attraversate, poco interrogate. Ci aiuta a liberare Pasolini dal pasolinismo, da una rappresentazione retorica o di tipo apologetico, demonizzante. Non c'è il maledettismo e non c'è la profezia laica di chi intravede più lucidamente un esito di civiltà. C'è l'onestà straordinaria e il giocarsi nelle trincee più spericolate in questa contraddizione tra vita e scrittura. è come se la scrittura non può che raccontare la propria perdita di ruolo, la propria impossibilità a farsi. La scrittura sforma, non è più forma. Ecco, è un Pasolini più vero, più vivo, più collocato nel suo contesto, più interrogato nei singoli frammenti della sua opera. Non è il Pasolini che ci restituisce Pasquale Voza, l'ultimo, il più criptico, il più opaco, il più cupo, il più nevrotico, il più livido, il più tragico, anche per la testimonianza che in qualche maniera annuncia una morte violenta che poi si avvera, appunto una di quelle profezie che si autoavverano. Il Pasolini di Pasquale Voza è un contributo utile a conoscere quel tempo e a interrogare noi stessi il nostro presente. Per quello avrei voluto essere lì con voi, con Pasquale, per ringraziarlo di un lungo, grande, meritorio impegno per discutere di ciò che rappresenta, non per i nostri bilanci pregressi, ma per i nostri bilanci preventivi, per il nostro bisogno di futuro, avere il coraggio di andare a scavare nella profonda condizione delle contraddizioni dello statuto intellettuale, degli statuti intellettuali, della formazione della cultura generale. È una storia così bella, una storia così terribile, una storia così dolorosa, come quella di Pierpaolo Pasolini, utile a noi per capire da dove veniamo e per capire perché ci siamo quasi irrimediabilmente smarriti. Buon lavoro a tutti voi!